Sono Giorgio Giustino, responsabile tecnico nonché socio della PTVSRL, una startup innovativa nata grazie al finanziamento della Regione Campania attraverso il bando Startup 2020. La società sta sviluppando una linea robotizzata 4.0 per la produzione di pareti termoventilanti, termoarredi per la microclimatizzazione di ambienti ad alta efficienza energetica. Nello specifico potrà essere configurato in termini di dimensione della parete a seconda della richiesta del cliente. La linea prevederà l'assemblaggio della parete attraverso una serie di stazioni per cui vi sarà una stazione di assemblaggio, una stazione di test della parete, una stazione di assemblaggio dei moduli di rifinitura, nonché la stazione di consegna. La parete termoventilante si compone di un pannello centrale e i due manifold esterni, nonché i raccordi di collegamento tra ogni singolo modulo. I manifold esterni saranno prodotti internamente attraverso stampa 3D. Il pannello centrale verrà approvvigionato in questo momento in outsourcing. La parete PTV mira dunque a migliorare l'efficienza energetica degli edifici. Si applica in sostituzione ad un termosifone tradizionale. Inoltre la parete PTV è studiata per essere integrata all'interno di pareti quali moduli d'ufficio, quindi essere in grado di realizzare un ufficio o una stanza preassemblabile o assemblabile facilmente, in grado di essere anche microclimatizzata al suo interno.